Passiamo allo sport. Calcio, brutta sconfitta per il Civitavecchia Calcio che ieri al Fattori ha perso 2-0 contro la Porto Torres nella 25esima giornata di ritorno di Serie D. A decidere il match è una papera di Boccolini in apertura di ripresa. Frao al 92esimo ha poi chiuso il match. Civitavecchia nervoso ed incapace di imbassire una reazione nella ripresa. Sentiamo il commento di Mr. Ferretti nell'intervista realizzata per noi da Riccardo Valentini. Civitavecchia Porto Torres 0-2. A vedere il risultato sembrerebbe una battita dominata da Porto Torres. Invece la realtà dei fatti parla di un Cecchia estremamente spregone sotto porta e di un Porto Torres che è passato in vantaggio quasi per sbaglio per poi aiutare la gara negli ultimi minuti. Credo di sì. Forse l'arbitro ha peccato un po' di protagonismo in certi episodi. Credo che la squadra non giocando benissimo però creando delle occasioni da gol poteva se non altro perderla questa partita. Siamo stati un pizzico sfortunati. Oggi siamo stati un pizzico sfortunati. Anche un po' nervosi a volte. Purtroppo i gol li hanno sbagliati un po' tutti. Spina, Picciolo, Longo. Se poi il gol non lo fai la dura legge del calcio dice che prima un po' lo prendi. Certo. Non posso rimproverare i ragazzi perché sbagliano i gol. La squadra ha capacità di creare occasioni da gol. È un peccato nelle due o tre occasioni concessa aver subito due gol. Questo è il peccato. Perché la squadra poi è stata in mezzo al campo, ha creato, è sempre stata pericolosa. Anche forse con poca lucidità e con troppo nervosismo. Anche in certe reazioni. Però, insomma, adesso non bisogna perdere la calma e la lucidità. Non bisogna perdere l'equilibrio. Questa squadra può giocarsi ancora il campionato. Certo, questa sconfitta non ci voleva. Però abbiamo visto tutti quanti come maturata. Probabilmente non ci stava una sconfitta così. Ancora a calcio torna a vincere il Cornetto Tarquini in eccellenza. E lo fa in uno scontro cruciale per la salvezza contro il Guidogna al Bonelli. A decidere il match, le reti di Santo e Tamaglio, doppietta per lui. Solo nel finale il gol della bandiera degli ospiti. Partita comunque dominata dai tarquinesi, che hanno meritato il successo anche dal piano del gioco. Si rianza anche il Ladispoli, che in casa batte 1-0 il Città di Monterotondo, grazie ad una rete di bacchi siglata a metà del primo tempo. Dopo una serie di risultati negativi, finalmente tornano i tre punti per quella che è stata la squadra rivelazione di inizio stagione. Si fa sempre più interessante il campionato di calcio e di promozione. La lotta per la vetta si è rieperta perché il Cerveteri Capolista ha pareggiato 0-0 contro l'Olimpia fuori casa, mentre la CPC ha vinto 3-0 in casa contro il Casalotti. La distanza fra le due ore è solo di quattro punti. I fari però erano puntati in collina con la sfida Tolfa-Santa Barinella. Il derby con tanti ex in campo è stato vinto dal Tolfa 1-0 grazie alla rete di Paolini. Sentiamo i commenti dei due allenatori. Eccoci con Gabriele Domenici, visibilmente deluso dopo questa prova non proprio brillante della sua squadra. La prova per me è positiva. È normale che per vincere ho detto già Domenico, ci vogliono di fare gol. Se tu gol e non lo fai vince sempre la squadra che fa gol. Loro sono abbastanza bravi, neanche merito la classifica che hanno. Però per il calcio è così, per giocare ci vuole tanta voglia. Però diciamo che il Tolfa ha meritato questa vittoria, perché ha avuto il dominio del gioco per quasi tutta la partita. Ha vinto il Tolfa 1-0, mica dico che io mi arrivavo da vincere. Ha vinto il Tolfa 1-0, è giusto che ha vinto. Però non è che noi siamo stati lì a guardare. Giusto, ha vinto il Tolfa 1-0, non ho niente da dire. Ti aspettavi qualcosa di più dai tuoi? Oppure ti aspettavi questa prova così? Ogni domenica uno si aspetta sempre qualcosa in più. Però certo, non è che siamo dentro la resta dei nostri giocatori. Si va avanti. Poi quello che succede, uno pensa che il giocatore dà sempre di più. Però certo, non si riesce a dare di più. Però come impegno, non si può dire che i ragazzi sono impegnati. Però uno spera che qualche giocatore può dare di più, non riesce a dare di più, va bene uguale. Però sull'impegno ai ragazzi non si può dire niente. Fra mister Mauro Stampigioni, una bella vittoria, un gran bel Tolfa abbiamo visto oggi. Sì, sì, felici per la prestazione, perché veramente abbiamo dato continuità a quello che è l'inizio del ritorno. Anche domenica passata, pur perdendo, abbiamo fatto una grande partita. Oggi invece, a differenza di domenica passata, siamo riusciti a concretizzare. Io credo che sul risultato non ci sia niente da commentare. Abbiamo fatto bene, sia tutti e due i tempi, come intensità, come qualità, anche sul gol. Io credo sia una nazione bellissima. Bene, bene. Siamo molto contenti. Passiamo alla pallavolo. Fesseggia solo la privilege CV Volley nel turno di pallavolo del fine settimana. I ragazzi guidati da Cardo hanno battuto 3 a 1 il Berciano, guadagnando punti preziosi in chiave salvezza in serie C maschile. In serie C femminile, invece, sconfitta preventivata per la Tireno Power, battuta 3 a 0 in casa dalla Forte Ciampino. Un match chiuso già nel pronostico, con le cività vecchiesi che saranno ora attese, da una serie di scontri diretti da vincere assolutamente. Chiude il programma alla serie B2 femminile della CV Volley, sconfitta domenica al Palazzetto dello Sport, dalla capolista Cisterna Latina, con un netto 3 a 0. Continua il momentono proprio brillante della cestistica che viene sconfitta fuori casa dalla Lazio per 64 a 54 in serie C2 maschile di basket. Fesseggiano invece sia la Pirgi, che batte i rivali di sempre del Sant'Anna Morena, con un nettissimo 85 a 50 in serie di maschile. Sia la Valentino Auto che sul parquet dell'Atena Roma mette al sicuro i play-off di serie a 3 femminile, battendo le padrone di casa per 54 a 47. Con questo successo le Santa Marinellesi confermano la seconda posizione in classifica e distanziano sempre di più la terza piazza occupata proprio dalla Roma. La domenica dello Sport Cività Vecchiese è stata piena e tanti altri sport sono scesi in campo. Sentiamo i dettagli nel servizio realizzato da Riccardo Valentini. Fondamentale vittoria per il CRC in serie B di Rugby. Sul non facile campo della Partenope Napoli, i Cività Vecchiesi di Mister Fabiani battono 40 a 36 i padroni di casa e rilanciano le proprie chance di salvezza. Un match combattuto e sempre sul fio dell'equilibrio, che però alla fine ha visto festeggiare i nostrani. Terza trasferta e terza sconfitta invece in serie a 2 femminile di pallanuoto. La Coser di Cataneo infatti è stata sconfitta per 12-9 dal Cosenza padrone di casa, confermando il proprio momento negativo al di fuori dello stadio del nuoto di Cività Vecchia. Continua invece inarrestabile la marcia degli snipers e rosati utensili, che in serie B di OK Line battono per 9-1 il malcapitato Palermo al Palo Mercuri. Mai in discussione la gara con il punteggio finale messo al sicuro fin dalle prime battute. Una vittoria ed una sconfitta invece per la Flavioni nella palla a mano. In serie B maschile arriva un K.O. sul campo del Cus Cassino Gaeta per 27-24. Matatore Vanin con 13 reti. Larga vittoria invece in serie B femminile con le ragazze di Coach Pacifico che hanno schiantato 39-19 le ospiti del Guardia Grele, rimanendo così al vertice della classifica. Ma questa è l'ultima informazione per l'edizione del Tg Alto Lazio. Vi auguro un buon proseguimento con la nostra programmazione e vi ringrazio per la cortesa attenzione. Arrivederci. Grazie. 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 Grazie.